E ora un piccolo messaggio dedicato a Francesco Arca e Irene Capuano. Per chi insomma non sia proprio una novizia della trasmissione. Ricordiamo che il senese è stato uno dei tronisti storici della trasmissione, subito dopo Costantino Vitagliano e Giuseppe Lago. Francesco Arca ha uomini e donne come Tronsita, veniva da volere e volare, scelse la veneziana Carla Velli, ma la loro storia non funzionò, il tronista ha avuto poi molte storie e la Rodriguez, non Belen, Laura Chiatti, e infine Irene Capuano, con la quale la storia si è fatta tremendamente serie e infatti è appena nata la loro prima figlia a cui l'attore ex tronista Francesco Arca ha dedicato questo bellissimo messaggio direttamente dal Festival di Venezia dove è impegnato, scrivendo questo bellissimo e sentitissimo messaggio